Grazie a tutti Buonasera, sono le 18.35, ai microfoni qui in redazione Radio Sarius Massimo Bonella, Pianeta Oggi TV, la nostra poi testata giornalistica di Venezia e siamo qui per darvi una notizia molto interessante perché Sarius, come sapete, è un emittente che sta crescendo sempre di più, sta emergendo sempre di più e vi offrirà a partire da oggi una nuova trasmissione. Diciamo pure l'ennesima nuova trasmissione, appunto come dicevo si sta ingrandendo con il suo contenitore di programmi sempre interessanti. Parleremo di come va il mondo di oggi, in poche parole una trasmissione più che una trasmissione, una riflessione che non sarà fatta da me, ora vi presenterò naturalmente il soggetto della trasmissione, io lo introduco questa sera. Ecco, dicevo una trasmissione che parlerà in modo particolare dell'andamento del pianeta, ecco perché si vive male ad esempio, perché il pianeta è sempre così inquinato, come mai la gente ad esempio va all'ospedale e non sa nemmeno per quale motivo si ammala, perché poi questi sono i drammi, i problemi che ne deriva da una male gestione del pianeta. Dunque, a farci queste riflessioni abbiamo collegato da San Donale Piave, siamo sempre in provincia di Venezia, il dottor Giovanni Giaolin che ve lo presento subito, lui è esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale. Che lo saluto subito, allora ciao Giovanni, ciao Massimo, ti do del tuo, noi ci conosciamo da parecchio tempo, ecco, so che tu appunto tratti queste riflessioni, questi argomenti molto importanti, questa sera tra le altre cose emergerà un po' anche la figura di questo Trump che quasi inspiegabilmente ha preso il comando negli Stati Uniti. Con una politica che in nome di ciò che è logica è tutto illogico, sta di fatto questo, c'è un malcontento da parte della popolazione, insomma a volte non si capisce come mai certi personaggi arrivano a prendere il potere. Comunque, io ti lascio a te la parola, so che tu hai uno schema da seguire, proprio che rispeccherà non solamente questo argomento ma anche altri, noi poi ci sentiremo al termine, mi darai la linea che io chiudo il programma, e poi ricordo agli ascoltatori che questo sarà un quindicinale, un po' del facsimile del programma di Luciano Debei e io sarò qui questa sera per presentare, per come dire, lanciare la figura di Giovanni Sinaolin, poi lui si arrangerà da solo nelle prossime trasmissioni e diventerà, diciamo, da ospite, come diciamo questa sera, diventerà poi lui il protagonista e quindi il titolare di questa trasmissione. Alle 18.38, Giovanni, a te la parola, carta bianca, tranquillo, vai. Grazie Massimo, prima di tutto saluto i radio telespettatori e dico un po' come si svolgerà la mia riflessione. La mia riflessione è un quindicinnale, prenderò gli argomenti alcuni e questa sera ne tratterò due, che in questo periodo, nell'arco di tempo, se ne è discusso sui giornali, se ne è parlato, e cercheremo un attimo di dargli una visione, la visione che io ho, che è quella marxista che deriva dalla sinistra comunista del 21, io sono un bordighiano, non mi vergogno a dirlo, e analizzare un po' questi fatti. Oggi cercherò di trattarne due, uno è attualissimo, se ne parla tutti i giorni, tu l'hai accennato prima Massimo, è quello del neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Donald Trump scombussola un po' le carte, tutti si chiedono perché, come mai, cosa farà, cosa non farà. Beh, io vorrei iniziare un po' con una citazione di Linz, che dice, il mondo cambierà Trump più di quanto Trump, Trump cambierà il mondo. L'agenda del presidente sarà scritta da lui e dalle sue teste d'uovo, certo. A riscriverla provvederanno però contro poteri e burocrazia americane. Infatti, verrà rimodellata nell'ambiente geopolitico, socio-economico e culturale, del quale tutti siamo immersi, Casa Bianca compresa. Il resto è per i media. Cioè, in poche parole, la dura realtà dei fatti è quella che determina le decisioni e la politica, non solo del presidente degli Stati Uniti, ma di tutti i leader. Come si va alle votazioni, come ci si arriva a queste votazioni negli Stati Uniti? Ci si arriva attraverso una disoccupazione crescente, al di là dei dati della diminuzione della disoccupazione negli Stati Uniti. Quindi, in realtà, è stato un artificio contabile, in modo tale da dimostrare che ci sono occupati in più negli Stati Uniti. Come l'artificio è? Che chi ha lavorato una settimana all'interno degli ultimi sei mesi non viene considerato disoccupato. Quindi, una settimana è molto poco, quindi è facile calcolare così, c'è un aumento degli occupati. C'è, sempre all'interno degli Stati Uniti, ma in generale, ma parliamo specificatamente di quel territorio, c'è una ricchezza insultante, si può dire, dai super miliardari e impoverimento dei ceti medi. Insultante perché un manager lì guadagna, un po' come anche i nostri, c'è comunque molte migliaia di volte in più dell'operaio che lavora nella fabbrica di questo manager. C'è quindi un per cento della popolazione che è più ricco del 99% restante della popolazione americana. La mobilità sociale, cioè quindi il fatto di poter diventare ricco e quindi una volta c'è la possibilità di diventare ricchi negli Stati Uniti, è nulla. I giovani dipendono sempre più dai loro genitori economicamente. Non solo, e questo è un dato molto importante, che dal 1990 al 2016 la bilancia commerciale americana è stata sempre in deficit. E siccome la Cina ha invece una bilancia inattivo, è naturale che da qualche parte il surplus fluissi. Del resto non c'è niente di più sicuro per un creditore che detenere beni e capitali del debitore, per averlo sotto controllo. I titoli del debito pubblico sono equivalenti di quei valori. Cioè in pratica abbiamo una situazione economica di questo genere. Trump entra, mette i piedi così detto sul piatto e dice l'America ritornerà grande. Sarà possibile che l'America ritorni grande? È una domanda che ci possiamo porre ai fasti di una volta. Ma i dati economici dicono di no. Perché con i dati che abbiamo a prima letto, la Cina è quella che investe negli Stati Uniti. E' un po' la situazione rovescia, come Marx scrive nel New York Daily Tribune del 3 febbraio del 58. Marx notava che l'Inghilterra, il maggior paese imperialistico dell'epoca, stava finanziando i suoi concorrenti e preparando così il proprio declino. La situazione descritta allora è simile a quella odierna negli Stati Uniti, ma con le differenze che il ciclo imperialistico si è chiuso. E il passaggio del testimone non è più possibile. E vediamo che i cinesi, per esempio, comperano e investono negli Stati Uniti. Quindi si inverte la tendenza. Donald Trump dice che porterà posti di lavoro negli Stati Uniti. Gli investimenti ritorneranno nel nostro paese. Sarà possibile? E' possibile, a patto che il costo del lavoro si riduca talmente tanto da poter essere concorrenziale nei confronti dei prodotti cinesi. perché agli americani, come a tutti i consumatori, vanno dove il prodotto costa meno. Vanno a recuperare il prodotto che costa meno. C'è la possibilità oggi e vediamo anche in Europa che c'è un ritorno di investimenti in Europa. Questo perché c'è l'aumento della tecnologia, la robotizzazione all'interno delle fabbriche. Vi leggo un articolo apparso sulla stampa l'altro anno, dove diceva che a retta della globalizzazione avanzano i robot. La tedesca Adidas ha annunciato l'inizio di un processo di rimpatrio delle produzioni che aveva delocalizzato in Asia. Sta costruendo uno nuovo stabilimento, stato dell'arte, ad Amsbach in Baviera. Si tratta di un impianto, per il momento prototipo, nel quale le scarpe saranno preparate e cucite da robot. Inizierà la sperimentazione, l'avrà iniziata la seconda metà dell'anno, del 1916, e poi la produzione più massiccia prenderà il via nel 2017. Un impianto simile sarà aperto negli Stati Uniti. Quindi, dopo vent'anni, per esempio, l'Adidas torna in Germania. Per far ritornare i capitali negli Stati Uniti c'è bisogno di abbassare il costo di lavoro. E i proletari che hanno votato Donald Trump con l'illusione che, quotando lui, l'America sarebbe diventata più grande e ci sarebbe stato il posto di lavoro per tutti in abbondanza, si renderanno conto presto di come sono stati truffati. D'altronde, Donald Trump inoltre dice che chiudiamo le barriere e pensiamo prima agli Stati Uniti, quindi diventiamo isolazionisti. A parte che è un po' difficile essere isolazionisti con 800 basi militari sparse per tutto il mondo, a meno che per isolazionisti non si pensi ai propri interessi, agli interessi degli americani. È chiaro che dopo gli annunci magari questo Donald Trump tenterà di farlo e magari lo farà. e vedremo degli sconvolgimenti nel mondo dati da questa politica isolazionista. perché ci sarà l'aumento dei dazi, ci sarà la guerra commerciale, ci saranno tutti quei fattori che noi li abbiamo già studiati, li abbiamo già visti. che in realtà la disoccupazione diminuisca, ho i miei dubbi, che i salari aumentino, ci sarà il benessere e il ritorno, ci sarà il ritorno ai fasti della vecchia grande America. ormai nessuno ci crede più, anche perché come ho detto, la maggior parte del debito americano è in mano ai cinesi e anche se gli americani creassero una massa enorme di produzione nei confronti dei cinesi ci perdono. basta pensare che gli americani come mercato, come popolazione, sono 250 milioni, i cinesi sono più di un miliardo, quando sono due miliardi di persone, quindi una quantità, una macchina produttiva molto più alta i cinesi di quella degli americani. Quindi ne vedremo delle belle. Il problema è un po' questo, che i giornali e i gruppi di sinistra si fermano alla superficie, cioè denunciano, giustamente secondo me, il fatto di vietare gli ingressi agli stranieri, ai paesi islamici o creare il muro ai confini con il Texas o ridare, passare per quello oleodotto nei territori dei nativi americani. Però dobbiamo non fermarci alla superficie, dire che tutto questo è opera delle contraddizioni del sistema di produzione capitalistico, basato sul denaro. Perché quindi, quando dicevo prima, e lo stesso Limes lo sottolineava, che il mondo cambierà Trump più di quanto Trump pensi di cambiare il mondo, è questo. Cioè la forza oggettiva delle cose, cioè se queste sono le regole sociali, dove il primo obiettivo è il denaro, il profitto, non si può che fare il cammino che vi ho detto. Altrimenti, allora sì, abbiamo un altro modo di vedere la produzione, la produzione è basata sui bisogni delle comunità che decidono il cosa e come produrre in armonia con l'ambiente. Quindi Trump, da una parte, ha vinto perché ha parlato alla pancia degli americani che vogliono che la situazione migliori, perché quando si perde qualcosa che si è conquistato, si fa di tutto pur di non perderla. Si fa di tutto consegnando anche il futuro, quindi i poveri, o i lavoratori, consegnando il futuro a un ricco che dovrebbe fare i loro interessi degli ultimi. Io ne ho molti dubbi su questo, ma comunque poi i fatti li potremmo commentare nell'arco di quando avverranno. E non mancherà molto che succeda qualcosa. Ne vedremo di rinculi, di avanzati e di rinculi. Passo al secondo argomento della disoccupazione giovanile in Italia. Mi soffermo un attimo su quali sono stati i discorsi, per esempio il discorso del capo dello Stato in Italia, il saluto dell'ultimo dell'anno, dove si parlano, è centrato soprattutto sulla disoccupazione e soprattutto sui giovani. Dice il Presidente della Repubblica, il problema numero uno del Paese resta il lavoro, nonostante l'aumento degli occupati, e qui sappiamo come vengono calcolate anche in Italia, viene calcolata l'occupazione attraverso la Job Act o i voucher, sono ancora troppe le persone a cui il lavoro manca da tempo e non è sufficiente per assicurare una vita dignitosa. Non potremmo sentirci appagati finché il lavoro, con la sua giusta retribuzione, non consentirà a tutti di sentirsi pienamente cittadini. Combattere la disoccupazione e con essa la povertà di tante famiglie è un obiettivo da perseguire con decisione. Questo è il primo orizzonte del bene comune. Ecco, queste sono un po' le parole, poi magari acceneremo ai giovani, ma quando si parla di lotta alla disoccupazione e stridono due fatti importanti, come il licenziamento in tronco di 1600 della call center dell'Alma Viva, mentre da una parte, mentre dall'altra si regalano alle banche 20 miliardi per ripianare i debiti insolvibili, sapendo quali sono i debitori delle maggiori banche, sono i grossi gruppi finanziari, immobiliari, italiani, dal De Benedetti ad altri, vediamo come stride. Quindi da una parte si parla di disoccupazione, creare lavoro, dall'altra si regalano soldi pubblici e quindi lo Stato non fa nient'altro che essere lesatore per questi grandi gruppi per pianare i debiti. Per quanto riguarda i giovani, dicevo, desidero adesso rivolgimi soprattutto ai giovani, diceva il capo dello Stato, so bene che la vostra dignità è legata al lavoro e so bene che oggi nel nostro paese, se per gli adulti il lavoro è insufficiente, sovente precario, talvolta sottopagato, lo è ancora di più per voi. La vostra è la generazione europeo istruita rispetto a quelle che vi hanno preceduto. Avete conoscenze e potenzialità molto grandi, deve essere assicurata la possibilità di essere protagonisti nella vita sociale. Molti di voi studiano e lavorano in altri paesi d'Europa, questo spesso è una grande opportunità, ma deve essere una scelta libera. Se si è costretti a lasciare l'Italia per mancanza di occasioni, si è di fronte a una patologia a cui bisogna porre rimedio. I giovani che decidono di farlo meritano sempre rispetto e sostegno. Bene, a fronte di tutte queste parole, di questa prosopopea, per i giovani non si fa assolutamente niente. Sono sempre, come dicevo prima negli Stati Uniti, sempre più a carico delle famiglie che lavorano o anche del pensionato che continua a mantenere l'intera famiglia. Per risolvere il problema dei giovani viene introdotta la Job Act, che ha voluto dire poi fra l'altro abbassamento dei salari e quindi all'interno dei posti di lavoro abbiamo due tipologie di lavoratori, quelli prima dell'introduzione della Job Act e quelli dopo, dove uno, i primi hanno maggior tutele e il salario è più alto, mentre i secondi hanno minor tutele e il salario è molto più basso. Addirittura con la defiscalizzazione, cioè vuol dire che la parte di denaro che il datore di lavoro chiamavano padrone, perché poi è così, il padrone pagava all'erario che poi questi soldi potevano andare in servizi per la collettività, bene questi, la collettività li paga al posto del padrone, quindi entrando meno soldi avremo meno servizi, eccetera, pur di, ricordo, erano 8 mila e qualcosa euro all'anno pur di assumere, fra virgolette, assunto un giovane. Poi non è stata poi un'assunzione, ma molte volte, proprio grazie alla diminuzione del salario, è stato fatto semplicemente il travaso da contratto, quelli al di sotto, le aziende al di sotto i 15 tibendenti sono passati subito al job act, perché lo potevano fare, mentre il Papa dice per i giovani abbiamo creato una cultura che da una parte idola tra la giovinezza cercando di renderla eterna, ma parola solamente abbiamo condannato i nostri giovani a non avere uno spazio reale, di reale inserimento, perché lentamente li abbiamo immarginati dalla vita pubblica, obbligandoli a emigrare e a mendicare occupazioni che non esistono e che non permettono loro di proiettarsi in un domani. Ecco, allora, se i grandi vedono questa realtà, vedono con preoccupazione dove sta andando questa società, qui poi prende le decisioni e le prende completamente all'opposto, dove i giovani, Poletti dice, per fortuna qualcuno se n'è andato perché era un po' un rompiscatole, già giovane, se è andato dall'Italia, ecco come sono, la Fornero li chiamava i ciusi, i giovani erano ciusi, non volevano lavorare e così vengono trattati i giovani. Però è un problema sociale, è un problema che se i grandi lo vedono e mettono in allarme chi deve prendere delle decisioni, vuol dire che sotto si sta covando qualcosa di molto grosso e molto interessante, interessante socialmente. L'importante è prendere la via giusta per cambiare questo tipo di società. I miei 15 minuti sono scaduti, spero di essere stato chiaro e ci risentiamo fra 15 giorni. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Buonissimo, potremmo quindi tranquillamente chiudere qui il programma, hai già concluso perfettamente, ecco vedo che con piacere hai imparato insomma, ecco quindi come vedi non è difficile insomma. Allora non mi resta che riprendersi la parola, ricordarvi che questo è un nuovo programma di riflessione sul mondo di oggi, inizia la prima puntata questa sera e dopodiché avrà frequenza quindicinale, sempre qui da Radio Science TV. Radio Science TV, che ricordo il sito internet, radioscience.it. Naturalmente è un programma in onda a rete unificate, vale a dire anche a tutte quelle, diciamo così, piccole web radio, o meglio web radio a taglio locale, sparse per l'Italia, che fanno a capo a Radio Science, emittente come dire, radio televisiva, internet, all news, madre, potremmo ecco, definirla così. Come sapete, quando ci sono queste dirette, tutte le emittenti satellitari a Radio Science si collegano a reti unificate. Bene, detto questo, vi ringrazio per averci seguito, naturalmente un ringraziamento a Rosario Moreno, il patron di RST, Radio Science TV, di Treviso, e gli auguro anche un buon lavoro con le prossime trasmissioni. Noi ci sentiamo domani sera, per Pianeta Oggi e 20 nel mondo, dopodiché, in via eccezionale, questa sera alle 22, perché devono, così è stata la comunicazione della regia centrale, devono intervistarmi, quindi di solito io sono abituato a fare io le interviste, ma comunque, ecco, vedi Giovanni, anche per me c'è una prima o comunque tra le prime volte che capitano, quindi questa sera siamo entrambi in situazioni di questo tipo, di test, i test non finiscono mai nella vita. Va bene, allora Giovanni, se vuoi aggiungere qualcosa, diamo allora l'appuntamento a tra 15 giorni. Allora buona serata anche a te. Grazie, buona serata. Bene, gentili ascoltatori, buon prossimo video con i nostri programmi. Un saluto dalla rete fondamentale di Radio Science. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti